e ti saluto con la pace del signore gloria al nome del signore alleluia questa mattina c'è grande gioia nel mio cuor c'è grande gioia nel mio cuor sono felice gesù mi ha salvato e nel suo amore mi ha perdonato ecco perché mi metto a cantare sono felice gesù mi ha salvato se tu sei solo sei stanco e deluso se nel tuo cuore la gioia non c'è volgiti a cristo l'amico fedele troverai pace gioia e tutto ciò di cui avrai di bisogno gloria a gesù non era il messaggio di oggi ma questi canti creano un messaggio benedetto il signore comunque avrai potuto notare che sto bene grazie a dio come ogni giorno odio ogni giorno proprio no ci sono dei giorni in cui non sto per niente bene ecco anch'io passi momenti un po difficile ecco però questa presenza di dio nel cuore questa pace di gesù non se ne va mai questo è sicuro quindi vogliamo innalzare il nome del signore anche questa mattina vogliamo ascoltare la sua benedetta parola che dice così cristo è stato risuscitato dai morti primizia di quelli che sono morti o addormentati prima lettera ai corinzi capitolo 15 il versetto 20 ed ancora se crediamo che gesù morì e risuscitò crediamo pure che dio per mezzo di gesù ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati questo testo lo trovi nella prima lettera ai tessalonicesi capitolo 4 il versetto 14 e il titolo di questa meditazione biblica è questo addormentati numerosi versetti nella bibbia parlano della morte dei credenti dicendo che si sono addormentati e ciò lascia intendere che la morte è una condizione temporanea in attesa della risurrezione quando gesù seppe che il suo amico lazzaro era morto disse semplicemente il nostro amico lazzaro si è addormentato ecco i discepoli pensarono che si trattasse del riposo del sonno così il signore disse apertamente che lazzaro era morto ecco di seguito la testimonianza di una persona che è stata così consolata mio padre era la persona che amavo di più al mondo un padre in tutto il suo significato era sulle sue ginocchia che mi addormentavo da bambina era sulla sua spalla che da adolescente mi appoggiavo a lui confidavo i miei dispiaceri e poi tutto d'un tratto se n'è andato una mattina d'aprile in rianimazione all'ospedale è andato da dio suo padre che lui aveva fedelmente servito per tutta la vita per me è crollato tutto come fare a vivere senza di lui ho taciuto a lungo il mio dolore poi un giorno ho gridato verso il cielo ed è arrivata la consolazione mentre palesavo a dio il mio dolore ho letto nel libro degli atti degli apostoli capitolo 7 verso 60 il racconto della fine di stefano il primo martire cristiano si addormentò dice il testo biblico queste parole sono risuonate fortemente nel mio cuore e mi è sembrato di riascoltare la voce dell'infermiera che telefonava dall'ospedale suo padre si è addormentato serenamente dio mi parlava e mi ricordava che nel suo amore era presente nel momento di questo passaggio così difficile per ogni essere umano fu così che scese in me la pace di dio quella pace che non ti lascia e non ti abbandona mai nonostante le difficoltà nonostante un lutto nonostante problemi importanti la pace di dio è quella che non se ne andrà mai ma sai perché perché gesù dirà di se stesso che lui è la nostra pace quindi la pace che noi abbiamo è gesù che vive dentro i nostri cuori quindi fin quando c'è gesù nella nostra vita non c'è niente che possa intaccarci come ho detto all'inizio è vero che ci sono dei momenti difficili anch'io li passano nessuno ne è esente però la pace la pace di dio non andrà mai via dal tuo cuore dalla tua mente se cristo vive dentro di te nonostante tutti i problemi che ci sono intorno a noi dentro di noi accanto a noi e intorno a noi eccetera eccetera dio è fedele voglio fare una preghiera prima di concludere questo video quindi ti invito a chiudere i tuoi occhi e pregare insieme a me padre nostro questa mattina ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per questa pace che tu hai messo dentro ai nostri cuori ma io voglio pregarti in modo particolare questa mattina per qualcuno che sta ascoltando questo video e che in questo momento non ha la pace tua non ha la serenità non è proprio contento e felice io voglio chiederti che in questo momento nel nome di gesù cristo tu possa toccare il cuore di questa persona e che tu possa riempirlo di gioia e di pace quella pace che viene da te solo signore io non so chi è questa persona ma tu lo sai signore console il suo cuore dona forze nuove incoraggia signore ti prego e riempi riempi di spirito santo riempi di amore riempi di pace perché ne ha di bisogno lo sento nel mio cuore signore quindi ti voglio pregare e voglio chiederti la tua benedizione sulla mia vita e su tutti coloro che stanno ascoltando questo video la tua benedizione te lo chiediamo tutti insieme nel nome di cristo gesù benedetto con te in eterno amen amen fratelli e sorelle dio ci benedica immensamente amico o amica che stai guardando questo video la pace di cristo ti accompagni anche oggi tutta la giornata a domani